Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione a 5 minuti con Trentino Sviluppo. Nelle settimane scorse abbiamo presentato le misure di Trentino Sviluppo a sostegno delle aziende che cercano spazi per insediarsi e ci siamo occupati di innovazione e trasferimento tecnologico. Ma nei casi in cui l'impresa è solo un'idea esiste, cioè solo nella testa del potenziale imprenditore, cosa può fare Trentino Sviluppo? Ne parliamo con i nostri ospiti di oggi, Alessandro Garofalo, consigliere delegato di Trentino Sviluppo e Sergio Remi, responsabile dell'area animazione territoriale di Trentino Sviluppo. Ad Alessandro Garofalo chiediamo, non è necessario quindi essere delle grandi imprese con fatturati importanti e decine di dipendenti per poter beneficiare dei servizi offerti da Trentino Sviluppo? È vero, si può essere anche un singolo che ha la passione, cioè Trentino Sviluppo ha una serie di servizi di formazione alla cultura d'impresa, rivolte alle piccole e medie imprese, corsi formativi, workshop, accesso a reti e banche dati o seminari sui vari temi di moda nel settore dell'innovazione, ma c'è un'area specifica molto importante che è quella dell'animazione territoriale che è nata nel 2006. Quest'area in sostanza ha il compito di accompagnare i territori nei loro processi di sviluppo e l'esperienza relativa è quella dei patti territoriali, animare un territorio vuol dire sostanzialmente creare una modalità operativa incontrandosi con i sindaci e con tutti gli operatori locali per fare evidenziare tutti i bisogni di impresa che ci sono, è una campagna di ascolto di giovani o meno giovani perché è per tutti, sull'opportunità di aprire delle piccole o micro imprese in cui poi Trentino Riluppo assiste sul business plan, sulla normativa, sulla fiscalità, sui tipi di impresa per sostenere questo sogno imprenditoriale delle persone nelle valli. Da quell'importanza di ricercare sinergie con gli enti locali, un esempio è quello di Clesso dove il 25 giugno è stato firmato un accordo con i comprensori delle valli di Non e Sole e il BIM dell'Adige. È vero, sono state due esperienze molto interessanti, portate avanti poi dal dottor Remi che conosceremo che in sostanza hanno portato risultati concreti, quella che è relativa a Clesso e a Creiamo Impresa ha evidenziato 21 idee di business su cui si può lavorare e su cui Trentino Riluppo si impegnerà. Roveretto che è stato un progetto interessante perché è stata un'animazione di città, diciamo e non di valle ha portato invece 50 idee di carattere imprenditoriale che sono emerse in questa fase di progetto che è stato avviato il 20 aprile scorso. Quindi l'obiettivo è quello di fecondare e di contaminare il più possibile le valli e anche le città e i paesi periferici. Sergio Roemi con Garofalo ci siamo addentrati nello specifico di un progetto di animazione territoriale vediamo allora per capire bene come si realizza un intervento di animazione imprenditoriale. Il lavoro che abbiamo fatto non è soltanto un lavoro di creazione di impresa, noi abbiamo voluto in qualche modo accompagnare un processo che è il processo di imprenditorializzazione del lavoro che oggi riguarda molti giovani che si affacciano appunto a un mercato del lavoro che è caratterizzato da elementi di flessibilità. Quindi l'intervento nostro sul territorio è stato molto calato nella dimensione del sociale, abbiamo fatto molti incontri nei comuni in cui abbiamo ragionato di come cambia il lavoro, di come cambiano le economie di questi territori e di quali sono gli strumenti che in qualche modo possono sostenere la creazione di impresa. Da questi incontri emergevano delle idee sostanzialmente che noi in qualche maniera cercavamo di sviluppare con i nostri interlocutori, elaborare un piano di impresa perché è vero che vogliamo mettere in piedi delle micro imprese, però sono micro imprese vere che stanno sul mercato e quindi elaborare il piano di impresa. E poi successivamente quando gli imprenditori decidevano di partire li aiutavamo nel processo di avvio dell'attività imprenditoriale, quindi le autorizzazioni, i finanziamenti, la soluzione dei tanti problemi che c'è nell'avviare una nuova attività. Quali risultati avete ottenuto in questi tre anni? È vero che poi alla fine i Trentini restano fatalmente attratti dal sogno del posto fisso? Io credo che questo intervento abbia smentito questo luogo comune, nel senso che c'è molta imprenditorialità sul territorio. In tre anni di attività abbiamo creato qualcosa come 87 nuove imprese. Chiaramente ribadisco, si tratta di micro imprese, che però sono anche la caratteristica delle nuove economie. Pensate che in Italia il 95% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, il 66% delle imprese sono imprese senza dipendenti, quindi la micro imprese è una caratteristica della nostra economia. Quindi abbiamo creato queste 87 nuove imprese, ma il dato più interessante è che ci sono stati presentati qualcosa come 500 idee di impresa, molte delle quali si trasformeranno presto in altre tante imprese. Quindi questo qua credo sia un dato molto significativo. Per il prossimo futuro su che progetti state lavorando? Diciamo che in questi tre anni abbiamo molto lavorato nelle valli, adesso siamo scesi un po' in Val d'Avig, abbiamo cominciato questa attività sul territorio di Rovereto, cominceremo presto a intervenire anche nell'area di Trento, organizzando degli incontri, nelle circoscrizioni. Vorremmo appunto affrontare questo tema delle nuove professioni e c'è anche una mezza idea di creare assieme al Comune di Trento una sorta di incubatore, non tanto di impresa ma di giovani professionisti, creare uno spazio in cui questi giovani professionisti possono trovare degli spazi di lavoro, di incontri e dei servizi comuni e quindi sviluppare, essere aiutati nei primi anni a sviluppare la loro attività. Ed è tutto per questa puntata, vi ricordiamo per maggiori informazioni il sito www.trentinosviluppo.it Ringraziamo i nostri ospiti, vi diamo appuntamento a martedì prossimo.